Il Vaticano ha trasmesso alla Procura di Roma gli atti relativi a Emanuela Orlandi a Giugno e Mirella Gregori. Ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa delle due donne. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cos'è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Il voto, espresso attraverso alzata di mano, è stato accompagnato da un lungo e caloroso applauso dell'Assemblea. Mirella Gregori scomparve a Roma il 7 maggio 1983, circa un mese e mezzo prima di Emanuela. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, non ha mai smesso di cercare la verità dalla scomparsa della sorella e ha accolto con soddisfazione la notizia. Sono contento. Aspettavo con fiducia questa notizia. Questa commissione potrà fare molto. Sono convinto che arriveremo alla verità, la quale non potrà essere occultata per sempre. Ringrazio i senatori che hanno votato, ha affermato. Ti ringraziamo per averci seguito. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto. Grazie per aver guardato il video.